Ok, quindi ragazzi, cosa siamo qua a fare oggi? Siamo qui a cliccare su italiano Ah, capisco, quindi giochiamo in italiano? Sì Va bene, quindi premo? Almeno che tu non voglia giocarlo in cinese mandarino, sì Beh, possiamo sempre provare se vuoi Esatto, potrebbe essere... Va bene Non mi fa ridere Ok, scusa Ma adesso va! Ma cos'era successo prima? Vi spieghiamo un attimino Quanto pare prima le lettere comparivano al posto delle ombre dei personaggi Quindi c'erano Manchlax e Rowan tagliati da una M gigante Non si sa per quale motivo Anyway Bene, non mi farò altre domande, andiamo avanti Benvenuto in tua madre Nooo In che senso? Praticamente nel senso... Nel senso anti-orario, no? Mi dà fastidio che le outline non ci siano Cosa sono le outline? Vabbè Rowan, ora citerò una persona a me molto simpatica Fatemi fare la persona normale Io per... no, no, io per io me avrei preso l'ultimo della prima riga L'ultimo della prima riga... Paco sei una persona di merda No, 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 perché? No, no, no Dammi un nome Ah Cursata Cursata, però così? Ho il nome Nuovo Nuovo Dimmi quanti spazi puoi mettere Dodici Te lo scrivo in privato Oh, madonna Va bene Ma tutto maiuscolo? Eh beh A posto Che poi quel nome in realtà è in linea con il personaggio Sì Oh, sì Benvenuti in Animal Crossing comunque Scusate, devo andare a sborrare È proprio bella questa grazia Nooo Eh, madonna Ma dopo cosa fai? Metti tipo le bestemmie e altre cose in reverse? Non lo so Eh, Nacoit! Metti questo in reverse No, devi dire Nacoitri in ti non vale Che cazzo? Eh, no, metti In reverse No, no, no Che tu Se mettiamo in reverse e Nacoit Cosa esce fuori? No, scusa Come cazzo cammina? Sembra che manchino dei frame Non vorrei dire Ma è un gibbone Chi è che non si alza la mattina con un palo Ma come vai al piano? Ma Paco ci sono le istruzioni Come se... no, Fra No, dai Non ci posso In che senso? Come dai soprannomi sì, no Chi è quell'animale? Perché hanno messo un'opzione per dare la possibilità di schippare quella cosa? Chi è quell'animale? Poi le cornici sono le stesse identiche di Diamante Verda Sicuramente arrivampate in tramolte virgolette HD Questa però è carina Senti, ma scende a te No, io non riesco a vedere sta cosa Ma poi è bruttissimo il modello Ma scusa dov'è il cappello? Datemi il cappello Mi sono mancato? Guarda Quindi adesso sei in televisione, Avon No No Mi rifiuto Ciao No, no Sei andato davvero Forse dovrei dimagrire No No Mamma mia Ma che è sta roba? Ma cos'è? Ciao, sono Lucinda e anche io cammino con un palo in culo Pum È proprio shum Oddio che mi triggerà il fatto che l'espressione sia cambiata senza una transizione Teribile Teribile Veramente teribile No dai, io non ce la faccio a vedere ste cose Ma poi c'è tipo Sembra ci sia tipo un po' di nebbiolina C'è foschia È tutto blurrato Che brutto È tipo Link's Awakening È tipo Link's Awakening Ma ha fatto molto peggio Allora, se ne lamentavano anche altri sui vari gruppi di Pokémon Nell'effetto sfocatura E un tipo, probabilmente uno che lecca il stivale a Game Freak O a Ilka a sto punto Ha detto No, no, no Ma è per dare più realismo Perché tu non dovresti poter vedere lì in fondo Sai che cosa può dare ancora più realismo? Un calcio in faccia, sì Tua madre Ti scherza, dai, mamma mia Eh, però il calcio in faccia Guarda che No, mi dissolge Eh, sì Ma no, ma ha il senso goliarvi Ebbe che facevano quei due O i boh o il sequi Va bene Ebbe Ma con quale animazione me lo stai dicendo, Cristo santo? Oh mio Dio Voglio giocare a una Chrome di merda Senti, non ci sono Pokémon Fuoco, quindi No, ma queste animazioni sono le stesse identiche di Spoiler Io boh Fiuu Ifta Cioè, praticamente la valigetta è grande tre volte un personaggio Quello che mi disturba è che è un mondo 3D In cui ci si può muovere solamente sull'asse XY No, beh Sono io che sto usando la croce direzionale Eh, ma vedi che i personaggi non vanno in diagonale comunque Anche durante gli script Ah, beh Guarda Con la corsa è già meglio Cioè, è meno peggio, scuse Ecco CR7 corre e basta Ma come cazzo sta a correre? Non gli ha messo i frame di corsa E lo facevano anche su di avanti perla Con gli accompagnatori Il problema è che gli velocizzavano semplicemente l'animazione Con gli sprite può funzionare Con i modelli 3D Ma è vuota sta stanza? Raw 1CB è più inquietante del modello Hai un bug ed eggs Però non ho più la dignità Ce l'hai mai avuta in the first place? Mi sto veramente divert... Ma, ma Sta tipo camminando È presente Cazzo Luca Laurenti quando fa il cowboy? Sì Uguale E poi il tordo so io Oh, maddo Sembra un fangame sta roba È una specie di buffone Ma sono io Mangia anche di tutto? Sì Dai No Aspetta un attimo Che problemi ha l'acqua? È praticamente l'animazione vecchia Su No Stia bollendo Zack Sì a dire a tua madre Parto all'avventura E forse ti darà il cappello Meglio il cappello che il cappello Se tua madre avesse il cappello Sarebbe un problema Puta Madre Un cinquantenne Mi ha fatto catcalling Dandomi un pokemon Posso partire all'avventura? Hai ottenuto il pack No Me l'ha dato davvero Niente Me ne va Che cosa mi sto di Cosa vuol Ah il cappello Ma così Ma che tristezza È tentato anche il son Dell'item ottenuto Tra l'altro Con un dramatic zoom Incredibile Ma cosa vuol dire? Ma poi perché sta lì? Allora Non è ancora l'epoca Prendo giusto le pozioni Però non credo mi serviranno 8000 E perché ho già dieci pozioni Nello zaino? Quando è che te le andate? Non ho letto mi sa O è tua madre che te le ha date? Oh santo cielo Dai Ma non hai bisogno di tutti sti soldi all'inizio Ecco Dai fammi vedere come si fa una cosa Che faccio da vent'anni Mi sto addormentando Posso dirlo? Si offende qualcuno Sto perdendo il mio venerdì sera A fare questo Dai dammi le pokeball Come minimo me ne da 20 Solitamente te ne dava 5 nell'originale Eh ma 20 Eh vabbè In chat No no Guarda Ha slidato Ma da Che drotti modelli Comunque mamma mia Cos'erano quei colori? Oh mio dio Cioè le animazioni sono rimaste le stesse da credo 15 anni I modelli sono gli stessi comunque Ripeto ha rifatto le texture il meglio Oddio mica tanto Guarda Meglio di spade e scudo sicuramente Come se ci volesse molto La viola smetti di rovinarmi l'infanzia Guarda me la sto rovinando io Io sono più buone Lui è bit Uff Niente la E ha deciso che non deve attaccare Non è che è evoluta sta cosa Oh madonna No ti prego Io ho visto uno scontro con Camilla Al rematch E a parte gli strumenti effettivamente Stront Tipo che ha nato la fiammosfera Milotic Con pelle dura Quindi ecco La E però è stupida Oh attenzione addirittura la potenza Ora io non so se Gli occasionali frame drop sono No è l'emulatore Cioè li vedi anche tu Perfetto No no è l'emulatore Sì ci sto giocando sull'emulatore Ok No fai benissimo infatti È tutto così danatamente brutto Porca di quella puttana Madonna mi sta venendo da vomitare Guarda Sembra mio nonno zoppo No guarda che lui è laurenti da cowboy Cavolo è vero È vero È vero Che bruttissimi Sono bruttissimi Eh con questi modelli già è meglio Ma perché non hanno tenuto questi modelli Anche nell'overworld Beh però dai almeno Lo sfondo non è il male Sì incendiamo la classe Raggio scusa ma è pazzo Sono contro un pazzo Mi appaccò i piedi così caldi Allora per un attimo mi è sembrata la palestra Ma è cresciato È cresciato l'emulatore Nice Bene finisce qui Arrivederci ciao Ma C'è i soldi dietro Vabbè Mi ha capito che non puoi usare la raggio scossa A quanto pare la raggio scossa spacca tutto Niente ragazzi Ciao È stato bello Sì Mi ha capito che non puoi usare la raggio scossa Si Mi ha capito che non puoi usare la raggio scossa